Mi fa un commento subito, un commento a piacere su questa partita? È stata una bellissima partita, due squadre che volevano vincere, il primo tempo è stato molto equilibrato, il secondo abbiamo avuto qualche occasione anche noi, abbiamo preso questo gol qua che si poteva evitare, però con una squadra come Pescara che è il punto da vincere il campionato, credo che ha fatto una grandissima partita la mia squadra, poi aveva sei giovani in campo, più un ragazzo di 2003 e credo che è stata una bella partita, fino alla fine ce l'hanno mai giocato. Quanto vi ha sorpreso questo passaggio al centrocampo a tre con l'inserimento di Rizzo? Il gol è arrivato proprio da una giocata da metodista di Pompetti e il taglio da mezzalla all'inserimento di Memuscei? Ha fatto un grandissimo gol, non c'è niente da fare, quando uno fa un gol così fa gli complimenti, però credo che la squadra ha dimostrato essere una grande squadra, giocare contro una squadra come Pescara che può vincere il campionato, noi abbiamo fatto la nostra figura. Una Carrarese per poter essere competitiva contro questo Pescara doveva metterci tanta corsa, tanta grinta, tanto agonismo, lo ha fatto no? Sì, perché dopo cinque minuti potevamo fare il gol e Pottiera ha fatto la gran parata, poi dopo è stata una partita equilibrata fino al settantesimo, dai, credo che il pareggio dopo che Pottiera ha fatto il rigore, che secondo me non è che c'era il rigore, però gli faccio i complimenti alla mia squadra, credo che la Carrarese ha fatto un'ottima partita e possiamo ancora crescere. Prima di lasciare mister Di Natale, Massimo, una domanda per te da studio, c'è il viva voce, quindi l'allenatore ti ascolta. No, volevo solo chiedere a Di Natale sui trascorsi del calciatore perché realizzò il centocinquantesimo gol in Serie A, lui lo ricorderà sicuramente, proprio in una gara Pescara-Udinese, 3 marzo 2013. Tutto qui, perché comunque quando ha affrontato il Pescara ha sempre fatto male il biancazzurro. Ma lì pensavo da solo, adesso devo pensare tante cose, però è stato un bel gol perché ho fatto 150 con la maglietta in Udinese.